No, ma non se ne può più! Uffa! Che c'è? Giocare a pallone! No, non voglio giocare! Perché non voglio giocare! Nessuno con me non giocava! Neanche Lorenzo li va a giocare! No, se n'è andata a posto! Papà, se non giochi con me ne vado di casa! Chi ha detto papà? Chiudi bene la porta! Pure papà si scoccia, lo vedi? Poi per giocare con me a pallone vado a chiamare il mio amico Peter Pan Ah, si è amico pure di Peter Pan! E chiamolo, va! Vediamo se vuole giocare! Beh! Che dici? Peter Pan! Su Ciruzzo, gioca a pallone! Non sei tu Peter Pan! Non è lui! Sei tu o non sei tu? Peter Pan, sei tu o non sei tu? Peter Pan, se mi si scherza a creature fa! E quello è l'eterno fanciulla! È normale che fai gli scherzi da bambini! Non è possibile Peter Pan che gioca con me così! Uffa! Perché non vuoi giocare con me, Maurizio? Ma perché non ti trovi a qualcuno con cui giocare? Ti citofono a Giulietta, va bene? A Giulietta! Giulietta! Ma non risponde! E tu hai citofonato all'unica che sta facciata a balcone! È colpa mia! È colpa mia! È colpa mia! Perché non vuoi giocare a pallone con me? Perché non mi va! Ci citofonare al mio amico! E vai a chiamare... Hulk! Hulk mo! So Ciruzzo a giocare a pallone! Eh! Neanche questa volta! Sei incredibile Hulk! È l'incredibile Hulk! È normale che è incredibile! Ma la tua vita è solo un pallone! È possibile che è così! Non è solo un pallone! Non c'è altro! Non è solo un pallone, Maurizio! Che altro è? Io faccio tante cose! Sì? Sto preparando canto, ballo, recitazione perché devo fare un programma con Maria De Filippi! Ah sì? E che trasmissione? Amici per giocare a pallone! Eh! La fa per lui! Amici per giocare a pallone! Puoi giocare a pallone? No! Nè! È la regina Elisabetta? Eh! Ma la regina mo! So Ciruzzo gioca a pallone! Eh! Ma come se vieni ti devono apprendere, ti devo pagare il campo, ti devo accompagnare a casa! Mm! E chi sia? È la regina! È la regina Elisabetta! È normale che ha la regina! Nè! Sì! Stefano Pioli? Pioli! Ho saputo! Ho saputo! Pioli! Ciruzzo gioca a pallone! No! Sei sei mesi che ti vengo a citofonare! Pioli! Mm! Altre volte hai provato? Sei sei mesi che ti vengo a citofonare! Neanche stavolta puoi giocare! Sei sicuro? Rispondimi bene! Non puoi giocare? Ma c'è minaccia! Perché stai minacciando? No! Vabbè! Che minaccia? Sì! Abbiamo trovato! C'è a pallone! C'è a pallone, Maurizio! No! Facciamo una cosa! C'è a pallone! No, stavo pensando una cosina! Vigori, io mi metto qua! Sì! Aspetta! Facciamo un giochino! Allora, tutti quanti facciamo la O! Ecco qua! Tieni! È mo' ti pallone! Il Super Santos! Tieni! È mo' ti pallone! Ma che fai? Lo porto a Campo Santos! Mi piace! Mi ha fatto ridere! Tieni! Tieni!